Noi riconosciamo due cose, primo che il sistema attuale assolutamente non è trasparente, non va bene, due che mentre il paese tira la cinghia la politica deve attirarla due volte. Questo lo riconosciamo e quindi noi avanziamo una proposta che è fatta così, un immediato dimezzamento dei finanziamenti e una radicale riforma dei meccanismi di finanziamento. Il dimezzamento vuol dire che dei 182 milioni al 2011 si passa immediatamente a 90 milioni. Questo sia chiaro e comprensivo di tutto quello che oggi viene titolato rimborsi per le regionali, europee, nazionali e così via. Questo dimezzamento, questi 90 milioni, devono secondo noi essere, diciamo così, erogati su due pilastri. Qui c'è la modifica del sistema. Questi due pilastri noi li mutuiamo come concetto da esperienze europee, dall'esperienza tedesca in particolare, naturalmente riparametrando a ribasso l'esperienza tedesca e escludendo le fondazioni. Noi qui non ne parliamo, cosa che in Germania invece c'è. I due pilastri che possiamo articolare su quei 90 milioni, fra due terzi, grosso modo, il primo pilastro è un terzo e il secondo, sono concepiti così. Il primo pilastro è un contributo in proporzione al peso dei diversi partiti secondo i voti validi ottenuti alle politiche. Il secondo pilastro è un contributo pubblico che è in proporzione all'autofinanziamento dei partiti ottenuto secondo, attraverso piccole donazioni.